sorelle e fratelli ciao a tutti ben ritrovati benvenuti in questo mio nuovo video buon mercoledì 26 giugno 2024 a tutti voi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale youtube del vostro postman attivate la campanella delle notifiche lasciate un like se questo contenuto ancora ancora dedicato alle juventus women vi è piaciuto allora allora intanto domani domani douglas luis sostiene le visite mediche in america nel ritiro del brasile per conto della juventus moise ken è vicinissimo alla fiorentina sono praticamente ai dettagli ma noi fedeli alla politica delle ufficialità di questo canale parliamo ancora di juventus women un altro update dedicato alle juventus women perché oggi sono arrivate altre due ben due ufficialità il rinnovo di barbara bonanzea per un'altra stagione amanda nilden che è stata riscattata dal tottenham aspettando aspettando anna bennison che è strettamente legata al riscatto del tottenham di amanda nilden poi vi spiego il perché chiaramente aspettando alicia leman abbiamo tantissimo tantissimo sul fuoco in questi giorni tra juve maschile e juventus women ma le women stanno sparando ufficialità una due al giorno a spron battuto e allora devo chiaramente aggiornare continuamente il lo status delle juventus women tra l'altro ho chattato con alessia capelletti su instagram cioè ma pure risposto io non ho parole alessia grazie è la prima giocatrice delle juventus women con cui riesco a chattare su instagram ha visto il mio video le è piaciuto molto mi ha ringraziato cara alessia io ringrazio te io ringrazio te clamoroso clamoroso ragazzi grande alessia c'hai un tifoso speciale in più come ti ho scritto oggi su instagram allora andiamo andiamo a bomba partiamo a bombazza perché il rinnovo di barbara bonansea che cosa aveva detto braghin in sede di rinnovo del suo contratto le women vanno avanti nell'ordine della sostenibilità con la competitività e allora i rinnovi delle senatrici barbara bonansea è l'ultima praticamente del gruppo storico che adesso vi cito e poi le giovani e poi le giovani con un mercato che comunque sinora ragazzi c'è poco da lamentarsi perché bergamaschi panzeri crum beagle le man benison insomma braghin sta facendo un lavoro sin qui semplicemente sontuoso alle juventus women allora barbara bonansea barbara bonansea ragazzi alle women dal lontano 2017 ovvero da quando è nata da quando è nata la squadra femminile della juventus proseguirà per un'altra stagione con la maglia bianconera ovvero ovvero 180 presenze 83 gol è l'ultimo dei rinnovi delle senatrici dello zoccolo duro della squadra dell'ossatura della squadra perché parliamo di ben 9 calciatrici che hanno rinnovato fino al 2026 al massimo dall'estate scorsa quindi stiamo parlando di un progetto che affonda le sue radici dalla scorsa estate ovvero salvai fino al 2026 142 presenze 8 gol lenzini 2026 120 presenze 2 gol a me le statistiche ragazzi mi piacciono che ci devo fare cantore 2026 89 presenze 20 gol però magnan 2025 92 presenze 90 i gol subiti un po troppo qui dobbiamo abbassare questa media perché praticamente almeno un gol a partita non va bene boatin 2026 203 presenze 18 gol girelli cristiana 2025 179 presenze 118 gol con la maglia della juve gamma 2025 148 presenze 6 gol con la maglia della juve infine caruso 2026 215 presenze 215 presenze 55 gol con la maglia della juve questi sono i rinnovi dalla scorsa estate in preciso ordine cronologico me li sono andati a spulciare proprio sulla pagina instagram delle women in preciso ordine cronologico l'ultimo l'ultimo della serie come detto oggi barbara bonanzea fino al 2025 queste ragazze che formano l'ossatura lo zoccolo duro le senatrici delle juventus women che dovranno aiutare a crescere le varie panzeri pelgander e compagnia cantante speriamo anche anna bennison ma oramai sembra praticamente fatto e poi e poi ciao amanda e poi ciao amanda su cui non sapremo mai tutta la verità arrivata la juve nel 2021 come vice boatin disse proprio bragin amanda saluta definitivamente perché stava al tottenham da sei mesi ma il tottenham aveva anticipato che avrebbe riscattato e quindi chiude con la juve con 65 presenze 8 gol 5 trofei uno scudetto due coppe italia due super coppe italiane rischi e questa è la cosa importante per questo dicevo è strettamente legato ad anna bennison perché perché il riscatto dal tottenham da oltre 70k 70 mila euro che stanno foraggiando il colpo anna bennison dall'everton good luck amanda buona fortuna cara amanda non sapremo mai la verità su amanda nilton era arrivata per far rifiatare lisa boatin ha cominciato a giocare a destra ha giocato esterna in attacco se è fatta male il mio pensiero la mia sensazione è stato uno degli ultimi danni che ha fatto jo montemurro prima di essere esonerato dalla juventus questo è il mio pensiero ragazzi è tutto per questo video altro non vi è da dire aspettiamo le prossime ufficialità come sempre fino alla fine vamos women ai prossimi appuntamenti sul canale del vostro postman ciao 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 ciao